Mi chiamo Alessandro Barre, sono nato a Genova nel 1952. Vi racconterò alcuni episodi della vita di mio padre Bruno Barre e di mio nonno Arturo Moisè, ebrei di origine milanese. Mio padre nasce nel 16 e quando è in età di studio il suo papalino, mio nonno, lo costringe a studiare ragioneria perché lui lavora in banca e vuole che il figlio abbia un lavoro sicuro. Gli interessi di mio padre però sono tutt'altri, per esempio la pedagogia nella quale riuscirà a laurearsi solo dopo la guerra e poi la musica, sua grande passione, per la quale conseguirà il diploma di pianoforte e di composizione. Quindi dopo gli studi di ragioneria riesce a prendersi il diploma magistrale e nel 1937 entra di ruolo. Nel 1938, una brutta mattina, bussano alla porta mentre lui è in classe a fare lezione con i suoi alunni. Parla, bisogna andare in segreteria, ti hanno chiamato. Che succede? Che problemi? Brutte notizie. Scende, preoccupato ma non più di tanto in segreteria che avrò fatto mai di male. Gli impiegati sono imbarazzatissimi, guardi noi non c'entriamo, abbiate pazienza ma è arrivato un fonogramma, da domani siete a casa, voi e Vittorio Mestre, il suo collega ebreo, anche lui. Stanno applicando le leggi razziali. È finita presto la carriera. Mio padre non si scoraggia, si mette a fare di tutto, quello che trova. Per esempio il rappresentante di legnami per una dita di sestriponente, che non è proprio il massimo, visto gli interessi culturali che aveva. Comunque per sopravvivere si fa questo e d'altro. Per un lungo periodo convive con la mamma, con mia nonna Ida Rossi, ebrea anche lei, che lo ricorda nel suo diario di guerra degli ultimi due anni, del 44 e del 45, di quando suonava e scriveva appassionatamente al pianoforte. Viene persino durante la guerra, non so come, rappresentata a una radio libera francese una sua suonata. La musica gli solleva lo spirito in quegli anni bui. Quando però dopo l'8 settembre arrivano sul territorio nazionale i tedeschi, è troppo pericoloso stare in due ebrei in casa. e quindi mia nonna riesce a farsi ospitare dalle suore a Quinto e mio padre con l'amico Vittorio, grazie a un carissimo amico comune, vengono ospitati in una casa abbandonata in zona Carasaregis dai proprietari che sono sfollati fuori città per paura dei bombardamenti. Hanno lasciato però una cameriera che dà una mano ad aiutare i due a tirare avanti a campare. Una mattina la signora è stata andando alla spesa mentre i due sono in casa, tranquilli, arriva davanti al portone, c'è una camionetta dell'SS. Qualcuno sicuramente ha fatto una soffiata per poche lire come usava a quei tempi purtroppo. si precipita, per fortuna a casa signorile, si fionda in ascensore, sale al quarto piano, entra in casa, chiude la porta, Bruno, Vittorio ci sono i tedeschi, dovete scappare. Ma dove sono? Stanno salendo le scale, stanno facendo le perquisizioni. E come facciamo a scappare? Se usciamo adesso ci prendono. Qualche mese prima, un po' per scherzo, un po' perché non si sa mai, avevano completamente svuotato il serbatoio dell'acqua potabile che c'era sopra la cucina. Ma chissà, adesso viene bene, ci infiliamo lassù, ci nascondiamo là, c'è un grande pannello che copre l'ingresso, non si vede il serbatoio. Si nascondono lassù col cuore in gola. Suonano la porta, sono i tedeschi. Signora, buongiorno, possiamo vedere casa? Prego, prego, avanti. Si guardano intorno, cade l'occhio sulla spallina di una seggiola dove mio padre aveva abbandonato la sua giacca. E questa giacca da uomo? Quanti siete qui? Ah, sono io da sola. E questa giacca? Sono dei piccoli lavori di sartoria che faccio per racimolare un po' di soldi, sapete, durante la guerra servono sempre. E i tedeschi se la bevono e non finiscono la perquisizione perché se fossero entrati nella camera dei due poveri ex maestri avrebbero visto una magnifica carta geografica appesa al muro con le puntine che segnavano l'avanzata degli alleati a est, a ovest e a sud. E non sarebbe finita così la storia. Però voi capite che era diventato troppo pericoloso restare lì anche perché sicuramente ci sarebbe stata un'altra segnalazione. e quindi i due lasciano questo rifugio che sembrava sicuro e cercano casa. Dove la trovano? Una villa abbandonata a quarto, lungo la passeggiata mare di Genova. Anche lì i padroni sono sfollati però hanno lasciato un cavallo per cui Bruno e Vittorio quando escono di giorno e non c'è il coprifuoco per andare a trovare gli amici cercare qualcosa da mangiare, racimolare due lire devono poi preoccuparsi di portare anche un po' di erba fresca o del fieno per questa bestia che se no nitrisce e strepita tutto il giorno perché ha fame e rischia di farli scoprire nuovamente. Ogni tanto si incontrano, anzi una volta alla settimana si incontrano di nascosto con mia nonna che parte da Quinto per vedere il figlio preoccupatissima per le sorti della guerra, i bombardamenti, i nazisti in città eccetera oppure si sentono almeno per telefono finché finalmente un giorno di aprile sembra tutto finito e allora i due decidono di uscire e di andare verso il centro. Appena escono, lungo la passeggiata scorgono una colonna militare Vittorio ma non sono i tedeschi hanno una stella bianca a 5 punti sono gli alleati, sono gli alleati e sì, peccato che però salti giù da una jeep la Militar Police, Militar Puntato chi siete? Mani in alto, documenti cerco prifuoco, in centro si spara ancora cosa fate qui? Perché uscite? Dove andate? non so in quale lingua i due riescono a farsi capire sono ebrei, sono stati nascosti lì per parecchi mesi e li lasciano andare si dirigono in provveditorato nella speranza di essere riassunti perché hanno sentito per radio che il governo Bonomi ha promesso di riassumere tutti quelli licenziati con le leggi razziali del 38 immaginatevi in quali condizioni sono gli uffici pubblici il 27 aprile del 1945 i due salgono all'ufficio ruolo degli elementari dove impiegati, imbarazzati tentennano, sì abbiamo sentito però non possiamo non è ancora arrivato il fonogramma da Roma ma noi sono sei anni, sette anni che siamo senza stipendio abbiamo fame, non abbiamo soldi mio padre pesava 40 chili nel 45 niente, niente da fare i due vengono rimandati indietro a mani vuote e risalgono tristemente le scale che avevano salito con tanta speranza appena fuori incontrano una conoscenza è un ispettore delle scuole elementari che li vede e gli salta al collo è entusiasta Bruno, Vittorio, è finita abbiamo vinto, siamo liberi siamo liberi, è fatta ma cosa fate qui? e siamo andati all'ufficio ruolo per la riassunzione e cosa vi hanno detto? che non possono fare niente cosa? e sì, dicono che non c'è ancora il fonogramma da Roma venite su con me, venite su con me, ci penso io l'ispettore è vestito in modo un po' particolare ha una giacca di fustagno, un berrettone stivali e un mitra tracolla perché è un partigiano delle brigate Garibaldi sarà per la figura istituzionale sarà per la divisa, sarà per il mitra i due dopo un quarto d'ora escono dal produttorato con due decreti di riassunzione e così finalmente nonostante la paura, lo stress, la fame e la miseria di quegli anni terribili possono riprendere finalmente la loro carriera di maestri elementari ok grazie a tutti